Il prestigioso coro ligno intarsiato della chiesa di Sant'Agostino di Pesaro risplende a nuova vita. È stato infatti completato il restauro conservativo di una delle opere quattrocentesche più importanti della città grazie al contributo del Lions Club Pesaro Host in un'operazione coordinata dall'Arcidiocesi di Pesaro sotto la vigilanza della Superintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche. Il restauro dell'opera di epoca sforzesca, situata dietro l'altare maggiore, sarà presentato nella stessa chiesa di Sant'Agostino giovedì 15 giugno alle ore 21. Service che sono stati sicuramente un notevole impegno economico per il club che però ha trovato il sostegno di tutti i soci proprio in vista di poter donare alla città questo restauro che ha potuto mettere in luce la bellezza dell'opera che possediamo. Diciamo che questo diventa anche un momento per far conoscere ai cittadini che non hanno mai avuto l'occasione di visitarlo questa grandissima opera e per consentire loro di apprezzarla a pieno. Ad occuparsi dell'operazione di pulitura dell'opera è stata la ditta Bischi Restauri. Il coro ha subito un grosso intervento negli anni 40 sostanzialmente a cavallo proprio della guerra dove sono state reintegrate in grosso modo la maggior parte delle tarsie che erano andate perse. Quindi questo era lo stato che abbiamo trovato. Naturalmente il coro necessitava di una ripresa perché ovviamente come tutti i beni immobili senza manutenzione si alterano, si depositano a pulviscolo o quant'altro. Per cui siamo partiti dall'aspetto più difficoltoso che era la pulitura. Per eseguire questo naturalmente abbiamo dovuto considerare la tipologia di materiali con cui era stato realizzato per poter intervenire poi con dei solventi idonei. Non solo il coro restaurato. Giovedì sera sarà presentata anche la guida storico-illustrata della stessa chiesa di Sant'Agostino realizzata dalla storica Giovanna Patrignani. Effettivamente abbiamo opere bellissime ma manca a chi le visita la chiave di interpretazione. La guida sicuramente grazie ai valentissimi autori che hanno scritto le varie schede fornirà una chiave di lettura che consentirà un arricchimento per tutti coloro che la visiteranno.